Si è tenuta a Trapani oggi un incontro molto importante con Lanci Nazionale. Lanci supporta la Banca della Terra con un progetto che si chiama Siba Terra. Questo è stato il primo evento pilota presso la regione siciliana e Lanci è partita nazionale, partita proprio dalla provincia di Trapani. I comuni coinvolti hanno dato già la disponibilità a proseguire questo progetto che consiste nel predisporre, nel fare intanto un primo censimento di quelle che sono le proprietà pubbliche, terre non coltivate o abbandonate che possono essere valorizzate e con un processo virtuoso vengono date un procedimento concessorio definito ai giovani dai 18 ai 40 anni che possono ottenere su questi progetti di valorizzazione anche delle risorse dei finanziamenti pubblici. Una grande iniziativa che parte da Trapani, che coinvolge i comuni di tutta la provincia che vorranno aderire a questa iniziativa. Il supporto del Lanci Nazionale è assolutamente gratuito, ma è molto importante perché è un procedimento che coinvolge diversi aspetti sia tecnici che giuridici che finanziari che quindi vorremmo porre in essere proprio per essere concretamente propositivi nei confronti dell'occupazione giovanile.